Ciao ragazzi, ciao mamma, ciao Steffi, allora mamma, sai che l'effetto, l'ho messo Marta ha avuto un senso veramente forte, quello di ieri, è molto bello, anch'io sono rimasta valordita, sono rimasto veramente, bello, bello quello di ieri, ok adesso ragazzi oggi in questo effetto l'ho chiamato esattamente, come l'ho chiamato, l'ho chiamato gli angeli custodi perché tutti noi abbiamo degli angeli custodi, sei d'accordo in questo, tu hai un angelo custodi, sì, sì, credo di sì, esattamente quattro angeli custodi, no io ho solo uno ne ho, ma l'effetto ci saranno quattro angeli custodi e capirai il perché, prima di tutto le carte vanno mescolate ragazzi, ok, tagliate, ora, tu stessa, mescolo, perché io, certo, ma non sono meschiale, mescolo, 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 qui c'è quel che magari posso pensare che c'è un investitore, no, ma ricorda che tu, mescoli, in modo mio eh, certo, tu c'è la tua mescolità, ora, tagli pure, adesso, il gioco di angeli custodi sarà quello di memorizzare un mazzo 50 le carte in 5 secondi. Tutte? Eh, sono, come fai? Conta 5. Uno, due, tre, quattro, cinque. Tu stessa, togli una volta e ti fermi quando vuoi tutto. Ok, fermo. Ok, la carta stanno a vedere. Fatto? Si. Tieni la metta sotto la mano. Ok. Chiudi tutto. Fatto? Aspetta, aspetta un attimo che faccio subito. Ok, fatto. Mescoliamo? Si. Io non posso sapere niente. Ragazzi, io non posso sapere niente. Tutto. Ok? Ho scolato. Ora, cosa importante, che la tua carta è unica al mondo e non ci sono doppioni, questo è importante, ci tengo perché uno può pensare. Ah, ma ce l'ho mai. E se noi andiamo a vedere. No, perché se è un po' e pensano, eh no, perché tu hai carte doppie. No, no, è troppo facile. Ok, però vi faccio vedere ai nostri amici, spero che si veda bene, che sono tutte carte regolari. E' un mazzo normale, stecola. Si vede, no? Si. Si vede abbastanza bello, ok? Ora, io devo indovinare la tua carta. Ragazzi, è un mazzo mescolato. Memorizzate in 5 secondi. Secondo me, la tua carta è una figura. Si. Non la girare, se io indovino. Lasciala pure qua. È il jack di picche. Si. Ok, ferma così, non ti muovere. Ora, tu stessa, cosa devi fare? Ok, butti tre carte. Una, due, tre. E poi ci metti sopra quante carte vuoi tu sopra. Quante voglio io? Vai, metti una qua, due, e tre. E sopra metti quante carte vuoi tu. Ragazzi, guardate, fermi quando vuoi. Mi fai bene, con calma. Mi fai bene, basta. Ok, questo non ci interessa niente. Questo mazzetto, andiamo a scortire anche, no? Giusto, tutto mi ha scolato. Ed è stato tutto casuale, ok? Ci sei fin qua? Si. Ora, perché vi ho detto i quattro angeli custodi? La tua carta è il jack di picche. Si. Non è interessante che appunto... No. No. Un po' tre jack? Si, tre jack più uno quattro. E quattro jack del mazzo. Un po' tre jack? Non è interessante. No, no, no. No. No.